Un patrimonio è prima di tutto un impegno. Banca Patrimoni Sella EC. Da oltre 125 anni, la banca è il nostro mestiere. La nostra storia si fonda sul rispetto del denaro, oculatezza nel gestirlo e senso di responsabilità verso chi ce lo affida. Angelo e Silvio Pontigia, da tre generazioni, guidano le scelte di investimento del cliente, oggi nella nuova sede di Erba. Banca Patrimoni Sella EC. Un punto di riferimento completo. Soddisfiamo tutte le esigenze connesse alla cura dei patrimoni offrendo una gamma completa di servizi di investimento e di servizi bancari tradizionali. Ci trovi ad Erba. In corso 25 aprile 111-113. Angelo e Silvio Pontigia, insieme a tutto lo staff di Banca Patrimoni Sella EC, vi augurano Buon Natale e Felice 2015!